Sì, ma questa alleanza con i 5 stelle evidentemente non funziona, perché i 5 stelle sono il calo, hanno perso la spinta propulsiva di un tempo, non tutti i 5 stelle sono convinti, specialmente non tutti gli elettori del PD sono convinti di questa alleanza con i 5 stelle, quindi è una cosa che non funziona, diversi elettori del PD anche al primo turno si sono astenuti di fronte a questa svolta a sinistra, che poi sinistra non è perché non è detto che i 5 stelle rappresentino esattamente la sinistra, ricordiamoci che in alcuni comuni la partecipazione è stata la stessa, ma in altri c'è stato un incremento delle astensioni dovuto anche a questa non voglia di votare il candidato che ti è stato proposto. Credo che, come questo l'hanno già detto tutti, la Schlein debba fare un ripensamento, perché questo non, chiaramente dopo l'effetto iniziale di entusiasmo per la nuova leadership, questo non sembra servire al PD.